Ogni anno, uomini e donne di cultura e origine diverse si affiancano allo staff del FAI nel rendere concreta quella missione di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e pesaggistico italiano. I volontari sono una risorsa importantissima, poiché dedicano il loro tempo libero alla diffusione dei valori e delle iniziative del FAI. Essi operano nei beni del FAI, dove offrono il loro contributo volontario in una pluralità di funzioni, accoglienza del pubblico, assistenza dei visitatori, raccolta di iscrizioni, degustazione dei prodotti a marchio FAI, attività nel verde e molto altro ancora. Operano nella rete delle delegazioni FAI, presenti in tutta Italia, dove offrono un contributo fondamentale alla valorizzazione del territorio, all'organizzazione e alla realizzazione delle giornate FAI di primavera e delle giornate FAI d'autunno. Gruppi FAI Giovani è una rete di volontari che coinvolge persone giovani da 18 ai 35 anni. Essi si rendono disponibili per realizzare progetti, eventi e incontri culturali relativi all'ambiente, organizzano visite guidate, mostre e contribuiscono a far conoscere il grande impegno del FAI in Italia. Il FAI è un'associazione che dal 1975 è cresciuta ininterrottamente anno dopo anno, arrivando a coinvolgere oltre 8.000 volontari in tutta Italia, uniti da un'unica e importante convinzione, prendersi cura del patrimonio d'arte, natura, cultura e bellezza che rappresenta l'eredità più preziosa del nostro paese e merita di essere riscoperta, tutelata e valorizzata ogni giorno. Esistono persone, associazioni e fondazioni familiari che con generosità scelgono di affiancare il lavoro del FAI con donazioni speciali. Sono persone appassionate, sensibili e longimiranti che desiderano fare dell'Italia un luogo più bello dove vivere, lavorare, investire e veder crescere le generazioni future. Essi scelgono di mettere a disposizione le proprie risorse per salvaguardare il nostro meraviglioso paese. È possibile donare un bene immobile o un bene immobile e scegliere di destinare la donazione a un bene FAI specifico o consentire al FAI di destinare il contributo laddove è più necessario.